Stefania Emanuele, Catundine festeggia 48 anni guardando all'arberia in maniera diversa, proponendo un nuovo umanesimo. Che cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a diventare una coralità nella trasmissione di questa cultura, di questa etnia, che comunque inevitabilmente ha all'interno anche la Calabria, l'Italia, i contrasti della terra in cui oggi si trova l'arberia, questi 50.000 abitanti devono necessariamente incontrarsi, condividere un percorso comune, ma quello che poi oggi devono condividere tutte le aree interne, i piccoli paesi, in cui bisogna forse riguardare questi luoghi, questa etnia, come davvero quello che rimane e quello da cui si può ripartire, mettere insieme arcaico e moderno e contemporaneità per ridare una linfa necessaria a queste culture che rappresentano comunque la ricchezza, i contrasti di un'Italia, di un'Italia che poi fondamentalmente quest'Italia non esiste. Perché non gemmellarci con tutti i 50 paesi? Ascoltare gli anziani, lasciar che parlino della loro vita e comanda questo. Se pensiamo a tutta la ricchezza etnica, culturale che ospita questa grande penisola, ci rendiamo conto che è proprio accogliendo questi contrasti e questo sangue sparso possiamo davvero manifestare l'unicità, la lingua, le lingue e quindi questa identità kaleidoscopica che è l'Italia, che poi è l'arberia, come l'area grecanica, come gli occitani e come tutti i migliaia e migliaia di dialetti che colorano e danno carattere e densità a questa terra. Alla sud si fanno buoni vini, ma il pane potrebbe essere migliore, così pure il latte, imparare a fare il formaggio. Quindi dobbiamo semplicemente recuperare ciò che siamo, riguardare con occhi nuovi i nostri paesi, parlare il più possibile tra di noi, con gli anziani, come dice Arminio, stare almeno due ore al giorno al sole, perché questo sicuramente ci aiuta a liberare la mente e a riconnetterci alla cosa più importante che è la nostra terra.